Ciao, sono Walter Caporale, Presidente nazionale degli animalisti italiani Onlus, nonché consigliere regionale in Abruzzo. Voto Nando Bonesio, voto Rivoluzione Civile nel Lazio, così come voto Rivoluzione Civile in Parlamento alla Camera e al Senato perché i diritti degli animali hanno bisogno di una rappresentanza vera, reale, perché se vogliamo combattere, abolire la caccia, la vivisezione, l'utilizzo degli animali nei circhi, lo sfruttamento degli animali nei lager zoologici, servono persone oneste, coraggiose, partiti che hanno il coraggio di mettere i diritti degli animali sullo stesso piano dei diritti civili. Nando Bonesio lo ha fatto in questi anni nel Lazio, dobbiamo appoggiarlo tutti come animalisti.